14 date, 14 serate da vivere insieme all'insegna della buona musica e dei mille volti dello spettacolo, il tutto rigorosamente gratuito e en plein air. È così che Fano ama definirsi per la seconda estate consecutiva, un grande palcoscenico a cielo aperto pensato anche in ottica anti-covid e che già lo scorso anno si è rivelata una formula vincente. Appuntamento dunque a partire da mercoledì 9 giugno in diversi locali del centro e non solo. Grazie a questa iniziativa ancora una volta promossa dall'assessorato al turismo del comune di Fano con la collaborazione artistica e organizzativa dell'orchestra sinfonica Rossini. Seconda edizione del mercoledì degli artisti, questa iniziativa che vuole valorizzare i tanti artisti professionisti del nostro territorio, questa iniziativa si basa sulla buona volontà direi proprio dei locali fanesi a partire da uno zoccolo duro che è formato da Senzatempo di Piazza Costa, Bardanghe Degusteria di Piazza 20 Settembre e il Monnalisa del Pincio. Questi locali per vocazione organizzano da anni attività di spettacolo, ad essi se ne sono aggiunti altri e tutti assieme sono sostenuti dal comune di Fano grazie al supporto dell'orchestra sinfonica Rossini che si occuperà di valorizzare dal punto di vista della promozione e anche di qualche approfondimento culturale queste belle serate da passare tutti assieme nel centro e non solo della nostra città fanese. Tanti concerti dunque tra le esibizioni di giovani artisti locali e cantanti già affermati. Non solo musica però perché fino a mercoledì 8 settembre ci sarà spazio per l'arte nelle sue tantissime declinazioni, dalla poesia alla recitazione, passando per la danza. Mi piace sottolineare come anche quest'anno oltre alla musica ci saranno altre arti, anticipo che ci sarà un pizzico di danza e anche un pizzico di recitazione, un po' alla volta sveleremo come consuetudine, anche se siamo solo alla seconda edizione, di questa iniziativa che parte in un certo modo, cresce perché l'estate è lunga e abbiamo avuto sia l'anno scorso che quest'anno un crescendo di adesioni. Il programma verrà comunicato di settimana in settimana attraverso la pagina Facebook del mercoledì degli artisti e le pagine dei locali coinvolti. L'obiettivo, come sempre, è intrattenere e rendere piacevoli le serate estive, ma è anche quello di valorizzare sempre più il potenziale della città della fortuna agli occhi dei tanti turisti. Intanto, grazie al grande successo ottenuto lo scorso anno, una manifestazione in pieno stile fanno en plein air, quindi tutti i mercoledì, partendo da questo mercoledì 9 giugno per 14 date, in città fanno il mercoledì degli artisti, quindi una serie di incontri organizzati insieme all'attività economica della città che hanno preso spazio nel suolo pubblico, quindi la possibilità anche di vivere la città a cielo aperto, in collaborazione con l'orchestra sinfonica Rossini, quindi possibilità di dare lavoro e spazio agli artisti della nostra città lavorando insieme alle attività economiche, ovviamente rendendo la città più belle e quindi facendola vivere a pieno tutte le persone che vorranno arrivare nella nostra città.